1.946 contagi complessivi e 129 morti. E questo il bilancio aggiornato della pandemia di coronavirus in Puglia. Gli ultimi dati sono stati forniti nel pomeriggio di oggi, primo aprile, nel consueto comunicato diramato dal governatore Michele Emiliano sulla base delle informazioni ottenute dal Dipartimento della Salute. Il bollettino regionale riporta che nella giornata odierna sono stati eseguiti complessivamente 1.136 tamponi diagnostici, di cui 143 sono risultati positivi al Covid-19. Dei nuovi casi di contagio, 39 si registrano nella provincia di Bari, ancora la più colpita, con 655 infetti complessivi. Salgono a 490 i contagi nel territorio di Foggia, 33 più di ieri, mentre sono 18 i nuovi positivi nell'Eccese, che ne conta in totale 321. Oltrepassa la soglia dei 190 contagi la provincia di Brindisi, con 27 pazienti in più rispetto all'ultimo bollettino. 148 quelli del territorio di Taranto, dove si contano altri 22 malati, ed infine la BAT, con 5 nuovi casi, per un totale di 116 persone infette dall'inizio della pandemia. Nella lista complessiva vengono conteggiati anche i due pazienti che sino ad ora non erano stati attribuiti a nessuna provincia, mentre sono 20 quelli provenienti da fuori regione. Delle 1756 persone che risultano attualmente positivi al virus in Puglia, secondo i dati forniti dalla Protezione Civile Nazionale, 107 sono in terapia intensiva, 637 sono ricoverate con sintomi, mentre 1.012 si trovano in isolamento domiciliare. 61 i pazienti guariti. Sale, purtroppo, nel bollettino odierno anche il numero dei morti, 129 in tutto, di cui 19 solo nell'ultimo giorno. 11 nuovi decessi si registrano in provincia di Bari, 5 in quella di Lecce, 1 nel Brindisino e 2 nel territorio di Foggia, che continua a pagare il prezzo più alto di vittime. 52 in totale da quando è cominciato l'incubo coronavirus.